Ciao ragazzi e bentornati a Faria 4 Skate Oggi faccio un video diverso dal solito Probabilmente deluderò le vostre aspettative Perché vi aspettavate di vedere Qualche altro video riguardante le automobili E invece no Questo è un video dove darò delle semplici spiegazioni Sto testando il mio gimbal nuovo Ed è molto figo Perché seguo tutto quello che faccio Quindi se vedete la telecamera muoversi Non prendete paura Sono qua sempre da solo Come mai sto facendo questo video? Sto facendo questo video ragazzi Ve lo dico subito in pausa pranzo Da lavoro Vestito da lavoro Una classica maglietta stile Veneto I love spritz Che non si vede perché il gimbal si muove E segue la mia faccia Non importa, piena di buchi ragazzi Oggi questo video è fatto così Perché? Perché mi rendo conto in questi mesi Di aver trascurato una grossa fetta Di persone che si erano iscritte al mio canale Per seguire i lavori della Civic Che fine ha fatto la Civic E9? Ti sei dimenticato di lei Non ti piace più quest'auto Non ti ricordi più come si rimonta l'auto Cioccolata Ci eravamo lasciati ragazzi Che avevo finito la fase 5 Cioè il restauro completo della meccanica E vi avevo detto che la prossima fase sarebbe stata Gli interni e la carrozzeria Io ho portato l'auto in carrozzeria a Natale Lì molti che mi conoscono Mi hanno scritto Ma come mai il carrozziere ci mette così tanto a farti la macchina? Come mai non cambi carrozziere? Fermiamoci subito ragazzi Il carrozziere è un mio amico Quando io ho portato l'auto a Natale Mi aveva già detto e assicurato Che non sarebbe riuscito a iniziare i lavori Prima di primavera Io gli ho lasciato l'auto Perché giustamente ho un solo posto auto Nella mia officinetta E avevo piacere fare anche altri lavori E così intanto lui ce l'aveva lì Se poi riusciva a iniziarla prima Benissimo Altrimenti nessun problema Ma io sapevo che l'auto non sarebbe stata iniziata prima di primavera Ed è questo quello che è successo L'auto è stata iniziata circa tre settimane fa È già stato fatto un ottimo lavoro Vi lascio qui delle foto Sono state tirate su tutte le botte E aveva botte davvero importanti Ragazzi non c'era un punto dell'auto Che non fosse picchiato Quindi potete immaginare il lavoro in mane Che c'è dietro Oltre ad aver trovato sotto una montagna di stucco Che andrà rimossa E andranno fatti i lavori fatti come Dio comanda Io sono fatto così Se affido il lavoro su una mia auto a un esterno Io non gli metto fretta A me basta che il lavoro sia fatto bene Però mi rendo conto che molti si chiedevano Ma che fine ha fatto sta Civic? In 7-8 mesi si è riuscito a restaurare la meccanica E ha tirato su un'auto paurosa E adesso è scomparsa No ragazzi state tranquilli La Civic è ancora in cantiere Ho già messo giù le intro dei prossimi due video Cioè la carrozzeria e gli interni Video semplici Nulla di straordinario Però almeno così vi tengo aggiornati Sui lavori della macchina Speravo di essere pronto per il JCM 2022 Ma è stato cancellato Quindi ben venga Non sarei riuscito sicuramente ad essere presente E niente questi sono i discorsi riguardanti la Civic Altri discorsi che ci tenevo molto a fare Era intanto perché il canale ha da poco compiuto un anno Ho concluso l'anno con il video test drive della mia 205 preparata E sono stato davvero contento Che vi sia piaciuto il video ragazzi Ha avuto dei risultati che non mi sarei aspettato Attualmente mi sembra è a 1200 visualizzazioni Ed è praticamente stato il video mio Che ha fatto diciamo più successo in breve tempo Per me il successo ragazzi sono anche 300 visualizzazioni Sappiatelo perché sono una persona molto semplice E faccio questo per divertimento Quindi vi ringrazio davvero tanto per il supporto che mi avete dato In molti si sono iscritti al mio canale E questo è importante ragazzi È vero che il mio canale è un po' scarso a livello di video Perché purtroppo Qui torniamo al discorso che sono vestito da lavoro Sto facendo questo video in pausa pranzo Perché ragazzi in officina siamo stra pieni di lavoro E io non riesco a stare dietro anche al canale Questo è un passatempo che si unisce agli altri miei passatempi Come mountain bike, calisthenics Luttarsi giù dal grattacielo col paracadute Pisciare contro vento Cavalcare l'aurora Pregare affinché la Capcom faccia un remake di Dino Crisis E quant'altro Quindi ho tante altre passioni Che non riguardano solo le auto storiche Ne approfitto di questo video per rispondere ad altre vostre domande Che spesso mi fate su Instagram Ovvero La prima Procediamo con ordine perché ho una confusione in testa Fare Steve Log non sono proprio capaci Come mai non pubblichi più spesso? Non pubblico più spesso ragazzi Perché sono da solo Cosa significa questo? Mi ha fatto sorridere perché molti mi hanno scritto Quanto mi piacerebbe entrare a far parte della vostra squadra? Ma la squadra ragazzi è composta da me Me e me Sono io che faccio tutto Pensavo fosse chiara questa cosa Io faccio il massimo possibile Però sono da solo Mia moglie mi dà una mano ogni tanto con i filmati Come è stato nell'ultimo video Che ho fatto del test drive della 205 Però giustamente anche lei ha il suo lavoro Ha i suoi impegni E non mi sento di impegnarla Per questa che è una mia passione Giusto per farvi capire le tempistiche Di una persona che fa questa cosa da sola ragazzi Per il video della 205 Il test drive ultimo che ho pubblicato Ci sono stati tre giorni interi di riprese Quindi tre giorni e un sacco di ore di riprese Che poi sono andati opportunamente tagliati e montati E un mese intero ragazzi Ogni sacrosanta sera fino a tardi Per montare il video Io sono uno che ha imparato Facendo questa cosa A montare i video Quindi sono un super novellino Di questo argomento Con l'ultimo video mi sono deciso A comprarmi un programma serio di montaggio E quindi ho sprecato anche tanto tempo Per imparare ad usarlo Però giusto per farvi capire ragazzi Dietro a un video Quanto lavoro c'è C'è veramente tanto lavoro E capite che una persona Molto impegnata come me Soprattutto col lavoro Fa fatica a stargli dietro Ho una seconda domanda Che spesso mi fate Ma come mai Nella tua ufficina Dove lavori davvero Quindi non per affari a 4K Come mai Non ne approfitti lì Per fare piccoli video brevi Che ne so Una cinghia di distribuzione Un cambio di un supporto motore Così pubblichi più spesso Fai video brevi E lasci qualche insegnamento E quindi il canale cresce Perché pubblicando più spesso Il canale naturalmente cresce L'officina non è mia ragazzi Io ho una mia officinetta Dove faccio i miei lavori Che sono anche i lavori Per affari a 4K Poi io lavoro come dipendente In un'officina Quindi Non sarebbe giusto Nei confronti del mio titolare Che io Mi prenda la libertà Di fare video Così dentro la sua officina E inoltre Dovrei stare lì A chiedere un sacco di permessi Perché uscirebbero Mille targhe di auto Di clienti E questo non mi piace Non va bene Le targhe che mostro Sono solo delle mie auto O di persone Che espressamente Mi hanno concesso La libertà Di lasciare la loro targa Quindi No ragazzi Non posso filmare Mentre lavoro In officina Come dipendente Posso garantirvi Che riesco a pubblicare Almeno una volta al mese Cerco di fare il possibile Perché questo avvenga Mi fa molto piacere Che mi scriviate su Instagram Scrivetemi più su Instagram Che sulle email Ragazzi Perché le mail Le guardo veramente Pochissimo Mentre se mi scrivete su Instagram Capita la sera Sto guardando la tv Ho il telefono in mano E spesso rispondo A voi che mi scrivete Mi chiedete consigli Una chiacchierata Così Sono sempre ben disposto A dialogare Insomma Con Con le persone interessate Io appena posso Ragazzi Sappiate che vi rispondo Altra domanda Che mi avete sollevato Faccio video Troppo lunghi È verissimo Purtroppo Tralasciando Le frasi Motivazionali Che ho sempre odiato Io sono Il più grande Fan di me stesso E Ogni video Che io produco Lo considero Come un quadro Di un pittore Deve piacere Principalmente a me Non me la sento Di dividere Tipo il video Della 205 Alcuni mi hanno detto Potevi dividerlo In tre puntate Però ragazzi Non è il mio stile Io faccio Quello che mi sento Di fare E A me è piaciuto Così il video Sono sincero Poi Giustamente Tu puoi dirmi A me non è piaciuto È un video Troppo lungo È prolisso E ci sta Ci sta Perché Nessuno ha mezz'ora Da sprecare Così Oggigiorno Con tutti gli impegni Che ci sono Mezz'ora di video È veramente lunga Però ragazzi Se posso Faccio video brevi Concisi Come è stato Magari quello Delle rubriche Know how Ecco Quelli sono video Che magari Posso cercare Di farli più brevi Saltando alcuni passaggi Però certi video Li voglio fare Come una mia creatura Che prende forma Non posso farli Più brevi Di così Ci tenevo molto A ringraziarvi Per il supporto Che mi avete dato Nell'ultimo video Ragazzi Un sacco di persone Mi hanno scritto Se gli faccio Il test drive Della loro auto Questo È innegabile Ragazzi Per me È un grandissimo onore Significa che il video Vi è piaciuto molto E oltretutto Ha Chiuso Il primo anno Di affari a 4 sk E Non potevo concludere Con un video migliore Un video Un test drive A me è molto caro Perché è l'auto Che mi sono costruito Da ragazzo E Quell'auto Mi ha sempre dato Tante emozioni Non ha mancato Di darmi emozioni Neanche qui Quando ho pubblicato Il video Quindi Grazie a tutti quelli Che mi hanno tenuto In considerazione Come tester Della loro auto E qui approfitto Per rispondere A un'altra domanda Come vedo il futuro Di affari a 4 sk Parliamo del canale Ragazzi Attualmente il canale Ha 450 iscritti E Sono molti Per me Sono davvero tanti Però al momento Non sono sufficienti Per percepire Un salario Da youtube Non che a me Interessi Prendere soldi Per i video Che faccio Eccetera eccetera Però dovete capire La differenza Fra uno Non so se posso Definirmi uno youtuber Io preferisco Può essere definito Un semplice meccanico La differenza Fra un semplice youtuber Che fa Questi video A livello amatoriale E uno youtuber Professionista Lo youtuber Professionista È seguito Da una squadra Di fotografi Di filmografi Come si chiamano Di montatori Di video È assicurato Per provare Le auto in strada Delle persone Esterne Io non ho Tutte queste cose Ragazzi Non ho un'assicurazione Se provo Una vostra auto Tu che vieni Dall'Emilia Romagna Mi porti qui La tua auto Io la provo L'auto Poi sorgono Dei problemi Vado addosso Un muro Succede un guaio Io non sono assicurato Per ripagarti E non ho neanche Intenzione Di farmi un'assicurazione Al momento Per fare questo Non me la sento Di testare auto Di persone Che non conosco Ho già Dei test drive Prenotate Diciamo Se così si può dire Di amici Ecco che con gli amici Vige un'altra regola E ci si combine In un'altra maniera Se sorgessero Dei problemi Con persone Che non conosco Al momento Non mi fido Di farlo Quando poi Il canale crescerà E deciderò Di farmi anche Un'assicurazione Riguardante Questo ambito Sappiate Che ricontatterò Tutti quelli Che mi hanno scritto Che sono davvero Tanti ragazzi Sono ripeto Stupefatto Di come Questa cosa Vi sia piaciuta Così tanto Perché tester Su youtube Ce ne sono tanti E io non mi ero Posto l'obiettivo Di creare un canale Di test drive Perché già Ce ne sono tanti E quindi Volevo fare Una cosa mia Personale Diversa dal solito Il materiale Ragazzi C'è Per pubblicare Almeno una volta Al mese C'è tutto Più stesso Come vi ho detto Prima Sarà difficile Quindi ragazzi Riassumendo Tutto il discorso La vanvera Che ho fatto La Civic Sta arrivando Più forte di prima E non abbiate paura Per quanto riguarda I test drive Al momento Mi limito A fare test drive Di persone Molto vicine a me Ricordatevi Di scrivermi Più su Instagram Che sulle email Avete capito Che non posso Filmarmi Mentre faccio Lavoro in officina Non ho altro Da aggiungere Vado di sopra Mangiare Che Tra poco Devo tornare In officina Di nuovo Oggi ho La distribuzione Di un camper Schifusissimo Brutto Come la morte Ma Bisogna fare Anche questo Se si vuole Sopravvivere Se si vuole Portare il pane A casa Grazie a tutti Ragazzi Non dimenticate Di iscrivervi Al canale Questo è Al faria 4 scale Ciao ragazzi